Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Giungono importanti aggiornamenti sullo stato di salute di Eleonora Giorgi, l'acclamata attrice italiana che da mesi sta combattendo contro un grave tumore al pancreas. La notizia delle sue condizioni è stata finalmente rivelata dai suoi figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. Paolo è nato dalla relazione con l'attore Massimo Ciavarro, mentre Andrea è dal matrimonio con Angelo Rizzoli. Attraverso un post sui social pubblicato questa mattina, i due hanno comunicato l'esito positivo dell'intervento a cui la madre si è recentemente sottoposta. Eleonora Giorgi, ospite di Silvia Toffanina Verissimo nei giorni scorsi, aveva condiviso con il pubblico la sua ansia per l'operazione, ritenuta un passo cruciale nella lotta contro il tumore. Nonostante le complicazioni, tra cui una polmonite, Giorgi ha sempre mantenuto un atteggiamento fiducioso nel superare la malattia. L'operazione delicata si è svolta stamattina e i figli dell'attrice hanno comunicato il positivo esito, è andata bene. Grazie a tutti per l'affetto e per la vicinanza. Queste parole hanno portato sollievo ai numerosi ammiratori di Giorgi, tra cui l'influencer Clizia Incorvaia, compagna del figlio Paolo, che ha espresso la sua ammirazione, definendo Eleonora una «brava guerriera». Lasciate un messaggio di pronta guarigione per Eleonora Giorgi, qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.